Orrori a Calabritto dove due cani randaggi sono stati uccisi a colpi di pistola. La macabra scoperta è avvenuta ieri mattina. I quattro zampe sono stati rinvenuti privi di vita in pieno centro nei pressi della scuola elementare del paese. Le carcasse di cani sono state trasportate presso i laboratori dell'ASL per eseguire una serie di accertamenti. Il sindaco Gelsomino Centanni ha allertato i carabinieri che hanno avviato un'indagine per tentare di risalire i responsabili dell'assurdo gesto. Dura la condanna del primo cittadino. Vergognosa e vile l'uccisione, scrive il primo cittadino di Calabritto dei due cani trovati nelle vicinanze dell'istituto scolastico. Nella mattinata ha avvisato immediatamente i carabinieri del comando stazione o esposto formale denuncia. Una cosa è certa, l'uccisione dei due cani randaggi è frutto di inciviltà che purtroppo è presente anche nella nostra comunità. È un gesto imperdonabile e orribile che tutti dobbiamo condannare fortemente. L'amministrazione comunale da tempo ha attivato procedure per il contrasto del randagismo. Siamo in costante contatto con l'ASL che effettua sterilizzazione e inserimento dei microchip. Molti cani vengono portati nei canili, altri li teniamo liberi nel nostro comune, sterilizzati e con microchip. Molti cittadini continuano a cent'anni, mossi da sensibilità, si prendono cura fornendo loro del cibo. Purtroppo periodicamente qualche ignorante lascia all'uscita della superstrada altri cani che risalgono lungo la strada di San Mauro e San Vito e girano per il nostro paese. È un fenomeno molto complesso presente in tanti comuni, ci vuole del tempo per la risoluzione e diverse sinergie in campo. Confido in una comprensione e collaborazione fattiva per risolvere almeno in parte questa seria problematica del randagismo. Il sindaco infine ringrazia la delegazione EMPA di Calabrito, una preziosa realtà del territorio che opera con tanto affetto e passione.